Si che non c'è una lira, me lo dicevi, invece di scalammane 4 ti offrivo un pranzo, frate. E' quello, è quello, frate. Mamma mia, meno male che hai fatto uri. Frate, se tu me lo dicevi che stavi senza un errore, io frate ti pagavo qualche cosa, ti offrivo da mangiare, frate, ti offrivo qualche cosa, capito com'è? Tu me lo dici e il problema è risolto, frate. Va bene.